Un furto al supermercato si è concluso con la fuga dei malviventi e il ferimento di un carabiniere fuori servizio. Ecco il bollettino di quanto accaduto ieri pomeriggio all'Eurospin di San Giovanni al Natisone. Il negozio che si trova sulla strada statale 56 è stato preso di mira da due banditi, uno che ha effettuato il colpo e l'altro che faceva da palo. Con l'auto accesa fuori, il ladro è entrato in azione con uno zaino che ha man mano riempito di prodotti prima di imboccare l'uscita per chi è senza acquisti, al di là delle casse. La situazione non è parsa chiara a uno dei dipendenti dell'Eurospin che si è fatto trovare all'uscita per bloccare e chiedere spiegazioni all'uomo dal fare sospetto. Di fronte a questo rischio il malvivente ha aggredito il dipendente dell'esercizio e a quel punto è intervenuto il carabiniere che si trovava lì fuori dall'orario di lavoro. Dapprima il carabiniere ha prestato un primissimo soccorso al lavoratore steso a terra, poi non ha esitato a cercare di fermare il ladro in fuga che stava salendo sulla macchina del complice che lo aspettava nel tentativo di rallentare o frenare la macchina che sgasava nel parcheggio dell'Eurospin Il militare è stato urtato dal veicolo che non si è fermato e ha riportato alcune ferite che hanno reso necessario di intervento dei sanitari. Per fortuna ferite non gravi ma guaribili in una trentina di giorni.